Benvenuti su Gente di Ruolo, ancora Antonio in regia, con Luca, Nilo e Oblo. Ciao a tutti. Ciao. Buon paneggio. Per la seconda parte dell'avventura strana e spiraliforme che vede coinvolti questi tre preadolescenti in un assurdo gioco trovato nei magazzini della CIA che li sta rimbalzando in giro per lo strano. Tra ricorsioni assolutamente diametralmente opposte. Ci eravamo lasciati al vostro arrivo su Primordia. Vi siete risvegliati in questi corpi che non vi appartengono ma neanche con tempo sentite in qualche modo familiari di primati dell'altezza posturale diciamo di circa due metri ma se stendesse la schiena e provaste ad avere una posizione retta stendendo le intere gambe probabilmente potreste anche se orari due metri e mezzo siete delle montagne viventi. Considerate che Primordia, e questo lo sapete dal film che vi dà la traslazione che avete appena fatto, è sostanzialmente l'incarnazione della supremazia tra i primati e i rettili. Quindi tutto è assolutamente esasperato in questa competizione per il dominio sui secoli futuri dell'universo e del mondo. E giusto per fare un piccolo punto tecnico, Primordia è una ricorsione con i suoi tratti particolari, quindi è una ricorsione estremamente violenta, quindi tutti gli attacchi che voi portate hanno un più uno al danno per categoria dell'arma. Quindi armi leggere fanno un più uno di danno, medie fanno un più due e pesanti fanno un più tre di danno. Su Primordia ci si fa proprio male. Ok. Ok? Avete un uno di armatura, perché siete scimmioni che tra pelle simile al cuoio e pelliccia siete sicuramente abbastanza corazzati, e avete tutti quanti un edge in might. Ok. Quindi chi già ne ha uno ne ha due? Esatto. Questo perché è proprio la vostra forma traslata che è tutta un'altra cosa rispetto a un corpo umano. Ok, dunque mi segno che faccio sei più tre di danni. Wow. Una fionda che sfonda dinosauri proprio. Io ho, come ho detto venerdì, ho una lunga staffa, un grosso bastone. A questo punto suppongo che è più il ramo di un albero. Eh beh, in proporzione sì. Ho un bastone che fa nove danni. All'arma pesante fa sei o fa sette? Sei mi pare. Sei, perfetto. E quindi fate nove con le armi pesanti. Mica male. Adesso però mi chiedo cosa incontreremo. Bene. Basta. Detto questa ultima cosa, visto che avete appena traslato, tiratemi tutti un di sei, e dopo vi dico il perché. Potrei dirvelo prima, ma prima voglio farvelo tirare, giusto per vedere se vale la pena che vi dica il perché. Ok. Me ne basta uno, ma non importa. E tu hai fatto uno sul, perfetto, sul primo. Io ho fatto un sei. Tu hai fatto un sei, e Oblo ha tirato un sei pure. Ok, allora, Nilo, tu che hai fatto uno, tu hai usato un cipher, vero? Se al pieno o no? Scusami. Sì, io avevo usato un cipher, e ne ho solo ancora uno. Perfetto, allora puoi ritirarne un altro. Quando rimbalzate tra una ricorsione e l'altra, se non siete al pieno dei cipher, avete uno su sei, di riaverne uno casuale, di traslarvi già con un cipher addosso. Vado a vedere io cos'è. Perfetto. E considerate che l'aspetto dei cipher su primordia è ovviamente in tono, quindi o sono cose commestibili, o sono materiali strani, oggetti, per la maggior parte, tutti quante cose naturali. Fatto questo, chi è che si era, chi è che aveva tirato i dadi per muoversi? Io. Crr. Crr. Esatto. Quindi pesca tu la carta. Metti il mouse sul mazzo e la trascini sulla... Ok, cominciamo male. Ne avevo la vaga impressione. Se lo faccio io per... Sentite il terreno scuotere intorno a voi. Ah, la carta in primordia è praticamente un cumulo di pietre. Avete presente quegli altari che si fanno mettendo una pietra sopra l'altra? Un tumulo. Un tumulo, esattamente. Quindi praticamente sposti questa pietra e sotto c'è un simbolo inciso che per voi rappresenta un qualcosa. Ovviamente non è scritto in caratteri chiari. Scusami Antonio se ti interrompo, ma sullo 20 c'è scramo nero? No. Cioè avrei dovuto vedere la carta di Luca? Sì, devi probabilmente forse lavorare un po' con lo zoom perché se sei zoomato troppo in piccolo stai vedendo un piccolo pezzo di tavola in cui non c'è niente. Guarda, rientro, rientro. No, 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 sullo zoom che c'è a destra... Sì, sì, ho provato ma non è quello e rientro e magari... Continua e... No, no, bene. Aspetta un attimo. Intanto il tuo personaggio fisso al vuoto. Vi traslo su un altro layer e vi riporto lì. FK, FK è il mio personaggio. Ok. Ok, sono rientrato, mi ha corretto tutto. Perfetto. Posto, posto, grazie. Benissimo. Allora, quando tu sposti dal tumulo questa pietra succede una cosa strana. Sulla pietra che crea l'altare che è l'equivalente del tavolo da gioco vedete a un certo punto le pietre che rappresentano i vostri segnaposto su questo... No, le pietre, scusatemi, sono piccoli crani di mammiferi crani di probabilmente topi o cose così che si spostano da sole o meglio, un piccolo terremoto scuote l'intera valle, l'intero ambiente e come risultato vedete i teschietti che rappresentano la vostra posizione cominciare a spostarsi sul tabellone e vedete che tutti quanti fanno due passi indietro. Oh no. E pescate un'altra carta. Ok. La ripesco io? Sì. Oblo, nel frattempo il tuo personaggio che sei quello che è più vicino al centro della spirale comincia a percepire un'ansia diffusa un sentore di urgenza impellente. Allora, l'ho sentita insimare impanicata e in qualche modo sai che deriva dal fatto che stai scorrendo verso il centro della anomala spirale. Fatto questo... Dobbiamo farti tirare il dado più presto possibile. Esatto. Fatto questo... Sposta un'altra pietra dal tumulo e vedete un simbolo che denota urgenza e aiuto e di lì a poco il tempo di appoggiare il sasso sulla pietra dell'altare sentite un urlo soffocato provenire da poco distante. È un urlo che voi sapete, distinto, è simile a quello che fareste voi con i nuovi corpi che avete con le vostre nuove voci? Prende la lunga staffa e con entrambe le mani la punta nella direzione da cui proviene quest'urlo e guarda i compagni e fa... Potete parlare, eh? No, no, potete parlare. Su Primordia avete il linguaggio. No, 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 ma io non volevo parlare. È una reazione istintiva. Ah, ok. La cosa assolutamente divertente è che uno prima di traslare si fa i pipponi sul personaggio e il mio, ho detto che si chiama Alexa, mentre tutti i miei compagni hanno questi nomi onomatopeici e il bello è che mi ero fatto le pippe mentali sul fatto che il suo nome significava senza verbo, senza legge nella lingua dei saggi. Allora mi immagino questo gruppo di scimmie sagge che parlano il latino. Però vabbè, comunque... Sì, Alex fa a... a Colomba, a Gru, gli dice parla inglese. Ti rendete conto che tu parli ma in realtà non stai parlando inglese, stai parlando una cosa che fino ad un attimo fa non sapevi neanche di conoscere. Ed è un qualche tipo di lingua abbastanza strutturata, comunque contiene i concetti astratti e cose del genere, però è sia una lingua dei segni che vocalizzata. Allora, Alex, che in questa lingua la traduzione fondamentalmente è... Ok. Senza verbo. Fondamentalmente si mette la mano davanti alla bocca e si accorge che ha completato la sua metamorfosi scimiosa, ok? E guarda verso la direzione dove c'è l'urlo. Cosa facciamo? Boom si concentra ulteriormente per tentare di comprendere sia individuare in maniera precisa il luogo da cui proviene quest'urlo e anche di capire e ottenere qualche ulteriore informazione su cosa sta accadendo. Sono trainato in ascoltare e cercare. Perfetto. Faccio un tiro unico? Me lo dici senza tirare? Allora, fai un tiro giusto per capire la qualità dell'informazione che ti do ma comunque già il fatto che ti fermi e ascolti ti dà dei risultati. Ho fatto sei e ho bassato di uno. Ottimo. Ok, vedete il boom fermarsi un attimo e attraverso la frangia dorata giusto perché tu hai la pelliccia rossa se non mi sbaglio. Ho una pelliccia rossastra tutta impolverata. Volete immobilizzarsi un attimo e concentrarsi in quella direzione e riesci a percepire e ti rendi conto comunque che i sensi che hai adesso sono estremamente più vivi in qualche modo più forti di quelli che potresti immaginare. Senti sotto il rumore della foresta provenire da quella direzione che sarà qualche svariata decina di metri fuori dalla radura un basso ringhiare e poco dopo un un ramo che viene che viene spezzato e cade per terra anche voi sentite tutti quanti questo questo ramo spezzarsi però non non sentite il ringhiare che invece per adesso ha sentito solamente boom. Per la natura dell'urlo ho capito c'è nessun umano o una scimmia come noi? Una scimmia come voi sicuramente. Scusatemi comunque dai dati che avete per la traslazione sapete che qui non ci sono umani. Sì sì magari non so fosse qualcosa di anomalo magari era un umano va bene ma informo informo gli altri e gli avverto che c'è un pericolo ringhiare cosa potrebbe essere un rigare un retti non un retti ringhiale ringhiare potrebbe essere di un qualche tipo di predatore posso pesante posso usare dato che io ho da da tipo ho delle abilità intellettuali immagino che qui dovete risettare tutte le conoscenze conseguenza io avrei conoscenza delle bestie e conoscenza del territorio quindi volevo usare magari conoscenza delle bestie per cercare di capire che tipo di animale sia ok ti credo che per adesso tu non l'hai ancora sentito il ringhiare quindi dovresti prima fermarti tentare di ascoltare fino a isolare qualcosa di utile per poi poterne dire qualcosa oppure tentare di avvicinarti e di inquadrare meglio la situazione beh io mi fermo e cerco di fare e cerco di di capire perché comunque qualcosa di Penelope sopravvive in questo essere in forma di primate quindi comunque le sue attitudini da investigatrice rimangono perfetto allora tirami direttamente su conoscenze bestie questo era solo per dirti che un asset con tracking cioè sono il mio focus è hands with great skill qui ok puoi metterti a cercare tracce aggiungendo informazione alle informazioni ok allora io tiro un di 20 e abbasso di 1 perché sono trainato abbasso di 2 abbasso di 2 anche eh però faccio un tiro di merda ok potresti anche conoscerla forse ma non hai le informazioni per isolarla non riesci a sentire il ringhiare che ti ha appena ti ha appena riferito boom e non hai altro materiale su cui lavorare e allora dice Alex fa sarà Conan e si mette a correre ho capito che non ci sono umani qui però io gli vado dietro e gli faccio e e grido all'ultimo della della fila che è boom all'ultimo della fila boom e gli dico andiamo andiamo è uno dei nostri vi segue vi segue sugli alberi però ok possiamo muoverci posso muovermi sull'albero sono on training in jumping in balancing perfetto hai ragione hai ragione mi arrampico anch'io fate conto che è un tiro di difficoltà uno muoversi normalmente se inseguiti o cosa magari diventa un po' più alto ma per voi se avete un training in cose di atletica è assolutamente naturale ok si si ce l'ho io che nel mondo reale Penelope è un po' più grande delle sue due compagne non vado sugli alberi perché quella è una cosa ma voglio interpretarlo voglio interpretare il fatto che casualmente chiaramente avevo messo tra le skill fisiche correre urca e quindi corre ma proprio corre esatto hai presente che impressionanti che sono quando corrono no no oppure quando corri sulle quattro due mani due gambe che è un mulinare di arti e corre come una palla da cannone sostanzialmente dunque due sulle liane sugli alberi mentre uno che corre esatto e tutti quanti voi sentite e vi vibra dentro lo stupore e la e l'euforia di avere effettivamente questi corpi che sono vi sembrano a tutti gli effetti onnipotenti e indistruttibili state facendo balzi da tipo una dozzina di metri tra un ramo e l'altro cose che veramente potete immaginare nei vostri più lontani sogni e e quest'uforia nella vostra mente da da bambino monta in uno stato a tutti gli effetti molto simile all'esaltazione quando attraversate la distanza che vi che vi divide da da quell'urlo cominciate a visualizzare la scena e ditemi voi chi arriva primo forse Alec è partito per primo e quindi è partita per prima e quindi forse arbitrerai che arriva per primo se volete fermarvi ditemi voi ok tu arrivi e vedi una figura simile alle vostre un altro primate che porta al collo una collana di pietre o forse di conchiglie di qualcosa di chiaro che staglia sulla pelliccia nera e con una mano si tiene aggrappata ad un ramo e con quell'altra si tiene il fianco evidentemente ferito in quanto vedi tutto il pelo incollato dal sangue che ha sporcato la pelliccia e che ancora copiosamente esce dalla ferita è abbarbicata su quest'albero evidentemente impacciata nel muoversi a causa delle ferite riportate e vedete che sotto che stanno via via tentando di saltare per prendere questa sfortunata creatura stanno tra i dinosauri che sibiliano e ringhiano di esaltazione tra i denti nella frustrazione di non riuscire a raggiungerla momentaneamente quando arrivi vedi che queste bestie che sono tutti gli effetti simili a quello che voi potete immaginare per veloci raptor e sicuramente Alex che è la più piccola delle tre o comunque la più maschiaccia delle tre ha una cultura sui dinosauri che farebbe impallidire molti accademici a furia di guardare libri illustrati e cose del genere e a leggere fumetti sul tema e vedi che probabilmente sono veloci raptor e tu sai nella tua mente di bambino che il veloci raptor è furbo ed infido quando arrivi sulla scena infatti vedi che in pratica questi veloci raptor che sembrano in qualche modo comunicare tra di loro tra schiocche e sibili delle mandibole uno dei due sembra quasi acquattarsi per terra come farebbe una gallina a covare le uova e quell'altro si allontana come per saltargli sulla schiena per prendere quindi il rimbalzo e riuscire a staccare abbastanza ad arrivare al ramo direi che andiamo d'iniziativa faccio ai miei compagni è un saggio l'altra scimbia e dunque ci darà il benvenuto dicendoci in che sunt leones però vabbè vediamo se farlo prima comunque iniziativa sono trenato iksutsaurus al massimo wow oh grandi tiri di iniziativa io sono addestrato ma faccio sempre i soliti tiri di merda ok quindi a voi penso che con l'addestramento parta per primo Alec ma comunque potete gestirvi l'ordine boom e come ti chiami Alec in questa ricorsione? sarebbe Alexa ma lo sanno solo dire i saggi sai che hai scelto un nome assolutamente radiofonico loro si stanno preparando per tentare di fare questa manovra coordinata e riuscire a saltare abbastanza da raggiungere il ramo si prendo la subito proprio così mi fermo sul ramo c'era questo grosso scostamento di rami e di foglie così adesso ce n'è ancora perché arrivano gli altri dietro questo rumore di scimmie e poi incomincio a a roteare questa grossa fionda fatta di pelli sopra la mia testa e con dentro un pietrone bello grosso preso dal tumulo e cerco di beccare il sauro quello che si sta posizionando per far saltare sull'altro sai quello che cerca di far leva così che se riesco a incepparlo magari si inceppano entrambi perfetto prenderne due per uno e l'idea è che voglio beccare le zampe le zampette sotto sai non tanto per ucciderlo poi se uccido tanto meglio per costargli la posizione esatto per buttarlo a terra ci metto un effort a colpire e uso anche il pierce ok non so se il pierce ha dei bonus qui perché però vabbè già già ne faccio dieci se colpisco ok con il pierce attivo e tiro sposto di uno per colpire ok ti do un asset o un vantaggio sopra 19 quindi fai anche i danni bonus scelgo di farlo ok ti davo comunque un asset a colpire perché lui a tutti gli effetti era fermo e concentrato nella sua piccola mente per coordinare questa cosa quindi non riesce a reagire sulla tua iniziativa molto veloce il tuo irrompere sulla scena quindi lo cogli praticamente impreparato e arriva questa sassata enorme e non solo gli sposti la posizione che lui stava tentando di assumere per coordinare questo attacco ma gli sposti l'anca vedi una delle due zampe schioccare a livello dell'osso dell'articolazione e farsi rigida spostandosi sul lato e lui cade a terra scalciando con l'altra con l'altra gamba praticamente piegato in due mordendo la polvere e l'altro e l'altro stava tentando forse iniziando a correrci contro ma semplicemente rallenta la sua corsa e resta disorientato nel tentare di capire cosa è successo vedi che di colpo i due dinosauri restanti si mettono sulla guardia si rendono conto che qualcuno è diventato preda di loro giusto per dirlo quanti danni fai? dieci però avevamo detto che il danno extra del diciannove dunque sono tre danni extra tredici quindi tredici boom perfetto non dovrete più preoccupare di quello lì ok no è apparentemente morto? no è ancora vivo però è assolutamente come dire non è noncivo insomma nel senso che a meno che non gli vai a venti centimetri lui adesso non riesce più a muoversi né a camminare sta scalciando sulla polvere tentando di muoversi con la coda col collo ma non può più muoversi mordendo l'aria schnaff se prima o poi volete dargli un colpo di grazia ma potete farlo come quando volete si purtroppo faccio una cosa che non dovrei fare l'efficacia del combattimento però mi piace come cosa e meccanicamente come posso risolverlo soprattutto se ci sono gli ane che mi possono permettere di fare io mi immaginavo che A Gru o Hug lancia questa pietra sul Raptor che viene abbattuto e proprio due secondi dopo gli piomba boom con la sua liana lo prende da terra e praticamente con lo slancio della liana lo porta con sé per aria e poi lo fa lo lancia in aria ok capito come? si 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 è sicuramente una manovra intimidatoria il risultato di combattimento è comunque presente praticamente l'idea è quella di scagliare giù con la liana raccattarlo da terra e poi scagliarlo via buttarlo buttarlo al di fuori del 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 frondo degli alberi e in modo tale la farà ricadere fuori dalla vista degli altri ok è un tiro allora se lo fai rimanendo sulla liana direi che è speed se invece atterri e a quel punto lo alzi di peso e lo caracolli via direi che è might no no l'idea è proprio stare sulla liana e tirarlo su dalla liana perfetto la difficoltà non si può sapere fai conto che l'unica difficoltà è data la difficoltà è data principalmente dal peso nel senso che è una creatura comunque pesante quindi direi che è un difficoltà 4 riuscire a farlo ok sono trainato in attività fisica me lo dai con il bilanciamento si e a basso di uno con un effort ne abbasso di due e Dio me la mandi buona sì ho fatto 11 di dado e ho bastato di due perfetto ce la fai dimmi come succede la scena no Nilo Nilo Ugg abbatte questo questo raptor con con il sasso e crolla a terra i due raptor in piedi assistono questa scena ci mettono in guardia un secondo dopo dal nulla piomba gli arriva questo questa scimmia con la liana che gli prende il compare da terra e lo scaglia via riesco a intimidirlo con questa con questa cosa vedi che adesso che sarebbe praticamente il momento in cui i raptor dovrebbero dovrebbero agire che in realtà si guardano tra di loro schioccando le mandibole riguardano la scimmia barbicata sul ramo poi guardano dove un attimo fa ce n'era un altro di loro che adesso sta volando contro un tronco spezzandosi in due definitivamente come un pupazzo di pezza poco più in là e restano titubanti sulla situazione non non sanno cosa fare momentaneamente ma vedi che praticamente il loro impeto di caccia è stato rotto con questo sono molto prossimi a darsene alla fuga perdono comunque l'azione corrente e tocca a crew e per finire la la tattica intimidatoria iniziata da boom correndo tra le tra le frasche che si iniziano a muovere immagino al passaggio di corsa di questo enorme babbuino esce fuori con questa lungo questa lunga mazza tra le mani tenuta ben in alto sopra la testa urlando a zanne a zanne scoperte e cerca di prenderne abbastonata abbastonate una vai ti chiedo prima di agire se hanno un punto debole visibile no questi alla fin fine non hanno un gran punto debole strutturalmente sono abbastanza semplici ok allora gli do semplicemente una abbastonata meno e ci metto un effort in forza è la risca ok manchi il colpo non riesci a sfondargli il cranio d'altra parte l'effort in forza che hai messo indica che tiri veramente un enorme cannonata cannonata a terra con questo diciamo mieti il risultato che avevano preparato prima di te gli altri tuoi due compagni anche se non gli hai sfondato il cranio nella loro semplicità mentale questi due creatori capiscono che l'avresti tranquillamente spezzata in due e visto che cercavano a tutti gli effetti un pasto non sei un pasto che vale la pena sfidare avendo schivato questo colpo decidono di darsi la ritirata quindi indietreggiano ancora qualche passo guardando verso di voi prima di darvi le spalle scomparire in mezzo alla giungla mi sembra il caso di fare un po' di baccana adesso batterci il petto infatti stavo per dire sollevo l'asta prendendola due mani sopra la testa urlando maledizioni in lingua in lingua scimiesca e urli di gloria ok fate questi 60 secondi di totale caos e poi torna torna la quiete Ugg sei lì ancora tra i rami vicino alla scimmia ferita Colomba è lì a terra che ha appena demarcato il territorio sbattendo la clava e urlando intorno per mettere al sicuro la zona e Boom è poco lì distante anche lei sulle fronte degli alberi allora Ugg sfodera il cypher che ha trovato prima il tumulo che fondamentalmente è un curativo ok cura di equivalente al livello che ho tirato dunque cura di aspetta cosa ho tirato un 6 cura 6 pull ok 6 pull di might e la uso sulla scimmia quella è ferita giusto avevi detto è ferita al fianco questa pasta questa pasta verdognola che prima mastica e poi gliela spiaccica sulla ferita un qualche tipo di limaccio di alga tirata su da chissà dove questa scimmia ti guarda e riconosci che è una scimmia femmina e abbastanza abbastanza anziana non tanto da essere come dire un anziano a tutti gli effetti però comunque un esemplare maturo lei ti guarda e dice grazie straniero io sono Tam della tribù delle fronde lunghe sì adesso che gli parla un po' così è un adulto questo non dico li veri si intimorisce Hug e va più in là sul ramo il che lo fa pericolosamente pendere in basso e guarda gli altri se Bume si avvicina con un paio di balzi e si prende posizione su un ramo superiore a quello in cui sono Hug e Tam e la guarda e lei vedi che reagisce con estremo stupore realizzando il fatto che quello che le hai messo sul fianco sta agendo e vedi che si riprende la sua posizione eretta e tasta con la mano dove prima c'erano le costole squarciate dove adesso praticamente è di nuovo sana a parte lo straccio sulla pelliccia e comincia a guardarvi con un certo timore e dice stregoni e grandi guerrieri da dove venite chi siete nel territorio delle fronde lunghe Hug indica il cielo per dire lo spazio e invece boom indica la terra quindi diamo segnali contrastanti si toglie una pulce dal pelo la mangia siamo siamo proprio dei conversatori bellissimi saremo saremo guerrieri e stregoni ma conversatori facciamo schifo e la guardiamo questa scende dal scende dall'albero lentamente continuando a guardarvi con diffidenza enorme stupore e diffidenza scesa dal tronco fa qualche passo indietro sempre senza darvi le spalle specialmente guardando che è lì per terra aspettando di capire cosa fate voi che fate uno noi tre quattro noi abbiamo un grande piano guardo gli altri bug tira fuori la sua ascia di ossa e imita un po' la mossa del tipo come con la sua ascia di plastica per farla scendere ovviamente non c'è il rumore che fa non parte il sintetizzatore non parte per la forza di chrome no però c'è una runa tracciata sull'ascia addosso che indica il dio chrome ok ed è Hug è vestito di di pelli dunque non lo so forse è strano assolutamente strano come si chiamava il clan di questi di tam fronde lunghe fronde lunghe no ok non li dico fronde lunghe sono in grande pericolo voi dovete andare andare via grande terremoto sta per arrivare e quando quando Groove dice questo Hug indica in alto e dice grande spirale sta per arrivare sempre sempre per mantenere il discorso e vedete che una frase alla volta via via il il terrore prende il prende gli occhi di questa di questa creatura vedendo questi stranieri dagli strani dagli strani modi parlare di cose devastanti e della e della fine di un tempo e dopo aver fatto i suoi due tre passi lentamente indietro con uno sguardo sempre più sbigottito verso di voi si gira di scatto e comincia a correre in mezzo alla giungla io gli urlo dietro gli faccio trovate rifugio sulle montagne si allungo una mano e prendo una banana c'è un sacco di frutta esotica su questo posto una come meccanica del gioco nel gioco in galactica dopo aver sconfitto non ricordo dopo aver sconfitto l'alieno la creatura cosa che è successo che ci ha fatto traslare avete ritirato il dado abbiamo tirato il dado sono apparse delle carte no 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 semplicemente HH ha richiamato il programma del gioco da tavolo e ha deciso di passare il turno e tirare il dado non è stato il gioco a chiamarvi il turno l'unica volta che il gioco vi ha come dire influenzato è perché vi eravate dimenticati di girare la carta e quindi era voluto fuori un warning ok indica il tumulo tra le fronde che immagino su un monticello più in là e lo indica e va io guardo boom e gli faccio tempo corre effettivamente boom tu ti senti sempre più oppressa dal tempo hai un'urgenza che ti è presente proprio il sentimento dell'ansia quindi un'urgenza immotivata che ti schiaccia addosso ecco quella cosa dopo aver lanciato la banana verso terra e la buccia di banana mi avvio caracol anzi no è sempre saltando da un albero all'altro torno verso il gioco questa grossa pietra spianata esatto e vedi che non ci sono dadi in realtà però c'è una serie di ossicini avete presente i bastoncini quelli dei tipo degli sciamani che intuitivamente capisci che vanno raccolti tra le due mani e lasciati cadere e dal modo in cui cadono si possono trarre gli auspici ok boom osserva questi questi ossicini e dopo di che li prende e li tira grazie a tutti grazie a tutti